Nella misura in cui sono felice, ho successo. Partiamo dalla fine, perché questa è una massima di Hebramix. Una massima di Hebramix estrapolata da una delle carte di Hebramix attraverso cui in genere chiudiamo le varie vlog entry. E la carta legge If you will let your standard of success be your achievement of joy, everything else will then fall easily into place. Se lascerai che i tuoi standard di successo saranno l'ottenimento, il raggiungimento di gioia, di felicità, tutto il resto andrà al suo posto. For in the finding of joy you are finding vibrational alignment with the resources of the universe. Poiché nel rinvenire la gioia tu andrai trovando le vibrazioni, l'allineamento vibrazionale con le risorse dell'universo. Bellissimo. Quindi partiamo proprio da qui, perché nelle vlog entries precedenti sono stato un po' troppo cupe. Prima di tutto dipende dal momento che sto attraversando, da come mi sento, sulla base di come mi sento percepisco il mondo esterno. E quindi dopo la partenza dei miei, il sovraccarico di cose accumulate a cui volevo dedicarmi, ho visto, interpretato la realtà in maniera un po' cupe. E ho deciso comunque di parlarne, di argomentare la situazione, di condividere il percorso attraverso le varie vlog entries semplicemente perché fa parte la nostra fragilità interiore, le nostre debolezze, i nostri mancamenti, i nostri momenti di difficoltà fanno parte del percorso. Anzi, è proprio attraverso quelli che si mette poi a nudo, a fuoco, quello che più desideriamo e è sulla base di quei momenti difficili che ci si arricchisce e ci si rende conto veramente di quello che si vuole essere, di quello che si vuole fare, di quello che si vuole avere. Come dice appunto Abraham X, it is through contrast that we grow, that we understand what we desire. Cioè è attraverso i contrasti che cresciamo, che comprendiamo ciò che desideriamo veramente. E quindi sì, abbiamo attraversato questo periodo breve, grazie al cielo, diciamo, grazie a noi, perché siamo noi i creatori della nostra realtà, questo periodo un po' di contrasti e adesso invece sto attraversando di nuovo un bel periodo, ma non perché è cambiato il periodo, non perché è cambiato il mondo esterno, semplicemente perché finalmente, a fronte del fatto che sto trovando la mia quadra interiore, dedicandomi armoniosamente alle varie priorità che mi stabilisco, sto trovando appunto un'armonia interiore che mi permette di relazionarmi con il mondo esterno in maniera molto più piacevole, molto più produttiva, molto più efficace, quindi parlando di gestione del tempo, di crescita personale, tutto dipende dall'interno, da quanto in pace con noi stessi siamo noi, per come la interpreto io, quindi l'obiettivo di voler condividere anche un momento di difficoltà, come ho fatto in alcune delle vlog entries precedenti, era quella di dimostrare che io non sono qui dal pulpito a dispensare consiglio e che tutti devono imparare da me o dalla mia esperienza, assolutamente no, proprio mettendo a nudo le nostre imperfezioni, imperfezioni, la nostra fragilità, intendo la volontà, il desiderio è quello di relazionarmi al meglio con le persone che dedicano loro preziosissimo tempo a questo tipo di contenuti, perché dopo tutto siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti partecipando in questa ride, in questa cavalcata che è la vita, stiamo tutti imparando dalle nostre esperienze giorno dopo giorno, quindi tanto vale condividerle per arricchirsi insieme. Arricchirsi insieme sono infatti tantissimi i commenti accumulati sia nel contenuto in italiano che nel contenuto in inglese a cui vorrei riuscire a dedicarmi più assiduamente proprio per continuare ad ingaggiare con coloro i quali arricchiscono i nostri contenuti attraverso le loro interazioni e devo riuscire a farlo, però siccome come abbiamo detto all'inizio sono, ho successo nella misura in quanto io sono felice, gioioso, che è un po' come dire che niente è più importante che io mi senta bene, perché per essere felice devo sentirmi bene, in questo periodo mi sono focalizzato più sul recupero di tante attività accumulate di recente pur facendo diversi progressi al tempo stesso, quindi ho gestito bene un po' il mantenimento tanto quanto ho gestito l'espansione, il mantenimento con tante delle cose che stiamo portando avanti a partire dai tanti impegni che scaturiscono da questo hobby che è sempre più una professione oramai qui sul canale, gli impegni inerenti ovviamente alle varie dirette, allo stato attuale esclusivamente inerenti al calcio ma molto presto riusciremo molto probabilmente a farne sempre di più anche inerenti a proposito inerenti alla crescita personale condividendo appunto il percorso e ingaggiando direttamente in diretta con tante delle persone che mi offrono spunti nella creazione di questo contenuto e oltre a questo ho fatto altri progressi sul fronte professionale anche quest'oggi abbiamo avuto l'ennesimo appuntamento con il venditore dal quale compreremo i nostri successivi quelli che diventeranno i nostri altri due immobili quindi stiamo portando avanti anche l'espansione del portafoglio che è quello che ci permette il portafoglio immobiliare che è quello che ci permette di campare al mattino ovviamente mi dedico al mio trading mobiliare quindi le varie opzioni eccetera quindi devo gestirmi al meglio in quelle che sono le priorità ho finalmente finito il resoconto mensile di dicembre a cui non sono riuscito a dedicarmi mentre i miei genitori erano qua ma cosa vi sto a raccontare tutte queste cose che insomma lasciano un po' il tempo che trovano non arricchiscono certo chi sta ascoltando questo tipo di contenuto però tra i vari progressi fatti in questi giorni questa mattina sono riuscito ad ultimare anche per l'ennesima volta il libro The Power of Now Il Potere di Adesso ultimandone quindi la lettura per la terza volta controllavo perché scrivo qua quando l'ho letto quindi la prima volta nel gennaio 2022 la seconda volta nell'aprile 2022 la terza volta ne avevo avviato la lettura nel maggio 2023 molto probabilmente lo leggerò per una quarta volta perché non lo leggo cioè lo leggo dall'inizio alla fine però non è che mi dedico lì a leggere capitolo no un paragrafetto al giorno toglie il medico di torno dieci minuti un quarto d'ora al mattino dopo aver meditato vengo qua parto con quello è un po' come suonare la campana che ho di là accanto al mio cuscino da meditazione mi devo ricordare di portarla qua quando faccio queste queste registrazioni ebbene ragazzi non posso consigliarvi abbastanza di leggere il libro il potere di adesso di Eckhart Tolle probabilmente non si pronuncerà nemmeno così straordinario straordinario per favore leggetelo se lo leggete lasciatemi dei commenti parliamone insieme offritemi spunti per continuare a parlare di crescita personale così come li ricevo quando parlo di ben altri argomenti perché è anche un po' quello che mi fa non mi sostiene nel tenere nel tenermi focalizzato sulla creazione di questi contenuti perché creo un contenuto di questo tipo mi ci dedico un'ora un'ora e mezzo tra il montaggio eccetera eccetera e poi poche visualizzazioni e un paio di commenti mentre quando creo qualcosa del genere su argomenti diversi si ingaggia un altro numero di persone e fa piacere intendiamoci però mi farebbe piacere parlare della crescita personale almeno tanto quanto parlo di sport invece il canale ora sta quasi orientandosi esclusivamente in quella direzione ovviamente tutto ripende da me sono io che devo creare più contenuto e contenuto migliore a proposito della crescita personale però il vostro sostegno aiuta sempre detto questo il potere dell'adesso non posso consigliarlo abbastanza ho ricevuto seguendo il consiglio di un amico che mi ha sostenuto nei giorni scorsi anche the path of prosperity ovvero la via della prosperità di James Allen non ho ancora iniziato quindi non posso ancora consigliarlo detto questo parlando appunto del fatto che niente è più importante che io mi senta bene citando di nuovo l'ennesimo insegnamento di Hebramix nei giorni scorsi anche un po' sovraccarichi mia moglie e io della situazione abbiamo deciso di prenderci un fine settimana siamo andati via un paio di giorni venerdì sabato no non venerdì sabato domenica mercoledì giovedì venerdì mi pare sì mercoledì giovedì venerdì scorso anche per questo siamo finiti indietro con la creazione di quel indietro ma indietro chi mi impone di creare niente di questo contenuto e sì eccoci qua siamo partiti per la costa opposta della Florida di creare niente Tornando a parlare di progressi fatti ed in programma, nei giorni scorsi ho finalmente ultimato il montaggio della chiacchierata registrata con mio nonno quando i miei familiari erano qui. Penso sia una chiacchierata di estremo valore perché appunto la the wealth of knowledge cioè la ricchezza di conoscenza che è presente nelle persone esperte per anziane non è il termine giusto ma nelle persone esperte che hanno un bagaglio di vita così vasto così prolungato è veramente straordinario e quindi vi invito ad andarla a vedere. Ad oggi siamo al primo marzo la chiacchierata con il nonno è disponibile soltanto per i membri del canale dal 17 sarà pubblica ovviamente primo marzo 2024 sarà pubblica per tutti coloro i quali vorranno dedicarvi ci si dedicarci si e parlando di progressi appunto queste immagini poi faranno parte nei giorni prossimi del primo vlog travel vlog cioè il vlog di viaggio che metteremo insieme per le tre città mi pare che abbiamo visitato in quei giorni e tra gli appunti che tra le imperfezioni menzionate poco fa appunto il libro the power of now il potere dell'adesso l'ho letto sì tre volte in inglese ma una volta l'ho letto anche in italiano quindi un libro che ho già letto per quattro volte di infinito valore che vi invito appunto a studiare a valutare appunto e che leggerò per la quinta volta riascoltandomi ci tenevo a menzionare anche il fatto che la difficoltà che incontro nella creazione di contenuto è una delle ragioni per cui finisco con l'essere diciamo in ritardo mi ero dato a inizio anno l'obiettivo di registrare un entry vlog al giorno che è stato un obiettivo decisamente ambizioso però gli obiettivi non ci non vanno posti per limitarci gli obiettivi il il vero valore degli obiettivi come abbiamo già sviscerati insieme nel vlog a proposito della gestione del tempo il vero valore degli obiettivi sta nel percorso stesso sta nell'arricchimento che deriva dal percorso che percorriamo nel conseguimento dell'obiettivo quindi il voler registrare un ingresso al vlog quotidiano al giorno mi ha permesso di prima di tutto migliorare anche nella comunicazione all'interno del vlog stesso soprattutto in inglese perché come vi dicevo la difficoltà una delle ragioni dei vari ritardi è che un conto è fare un vlog così di getto in italiano che per quanto è imperfetto insomma me la cavicchio ma in inglese invece non è non ho questa padronanza di linguaggio non ho questa confidenza di linguaggio magari ce l'ho per determinati argomenti in inglese posso parlare di investimenti finché volete di investimenti immobiliari specialmente finché volete ma per altre cose per altri versi magari ho anche un vocabolario più limitato detto questo appunto è il percorso che ci arricchisce per esempio dedicarmi così morbosamente al voler creare degli ingressi a questo vlog mi ha fatto mi ha permesso di capacitarmi che stavo stavo mancando di porre attenzione di dare attenzione ad altri ambiti della mia vita anche solo creare poi gli shorts da ovvero gli estratti di un minuto per promuovere il contenuto che abbiamo già creato dai vlog mi ha permesso di rendermi conto che non sono un conto è dirle le cose un conto è studiarle teoricamente un conto poi metterle in pratica tipo uno degli shorts più recenti che abbiamo pubblicato è a proposito del fatto che è fondamentale dare importanza e priorità a ciò che è importante dai priorità a ciò che è importante non a ciò che è urgente anche perché se non si dà priorità a ciò che è importante tutte le cose importanti le faremo diventare urgenti e quando si hanno troppe cose da fare che riteniamo essere urgenti beh a quel punto diventa difficile gestirci e gestirle con serenità e se non si è sereni non si può certo essere gioiosi felici e tornando alla carta d'apertura se non siamo né gioiosi né felici non possiamo certo essere persone considerabili di successo e dai priorità a ciò che è importante non a ciò che è urgente e quindi io col dire è una cosa che non faccio a volte quindi predico bene ma razzolo male e quindi io devo fare il vlog devo fare il vlog devo fare il vlog ok bene il vlog è urgente perché mi pongo io un limite una scadenza no per quelle che sono le mie ambizioni i miei obiettivi ma ciò che è importante non è tanto raccontare mai continuare a crescere perché se io mi dedico al vlog a discapito della lettura condivido creo magari rapporto ma non mi arricchisco non espando le mie conoscenze poi sì sicuramente quando uno fa il vlog migliora altri aspetti della vita perché si impara facendo non si impara attraverso le parole però insomma sono riflessioni che creare questo tipo di contenuto mi induce a fare e attraverso queste riflessioni mi arricchisco ecco arricchirsi creando rapporti infatti come avete appena visto in quel frangente stavo scrivendo una lettera perché come ho detto anche in alcune vlog entries precedenti io ho particolare piacere nel mantenere anche rapporti epistolari con i vari amici le persone e stavo scrivendo questa lettera proprio ad una persona che non ho mai incontrato ma con la quale sto creando rapporto proprio attraverso la creazione dei contenuti che condividiamo attraverso il canale quindi ci si può arricchire in più di una maniera ma il punto del vlog odierno è che appunto si può etichettare il successo in vari ambiti della vita sotto attraverso varie etichette ma quella che più rispecchia la mia attuale interpretazione delle cose è proprio quella in linea con gli insegnamenti di evramix ovvero che siamo persone di successo nella misura in cui siamo felici questo video è stato presentato da agriturismo colline di rossoli fai del tuo evento un evento speciale